Musica Buonasera, sono Antonio Abruzzese, componente del Consiglio Direttivo della Proloco di Soveria Mannelli. Porto i saluti del Presidente Antonio Ferranti, che per motivi di salute non ha potuto presidiare, e di tutti i soggi volontari della nostra associazione. Ringrazio il Sindaco Leonardo Sirianni e il Consigliere Florindo Rubettino per averci invitato a questo importante evento. Vorrei soltanto ribadire quanto già esposto in occasione della TAP Soveritana della Maratona Ferroviaria del 2016, organizzata dagli amici dell'Associazione Ferrovie in Calabria e da altre importanti realtà nazionali, ovvero l'importanza e il ruolo strategico delle ferrovie nelle aree interne ed il contributo che le Proloco potrebbero dare dal punto di vista promozionale e turistico per tutta la tratta Catanzaro-Cosenza. In quell'occasione avevamo avanzato una proposta, ovvero quella di dare in gestione per i soli fini sociali e turistici le stazioni e i caselli delle ferrovie della Calabria che da anni riversano in stato di completo abbandono al Proloco presente sulla tratta. I locali potrebbero essere utilizzati come musei, aree di sosta per turisti, quindi incentivando un turismo sostenibile vista le carenze infrastrutturali della zona, centri riunioni, attività di recupero dalle dipendenze e altre attività utili per il rilancio dell'area del Reventino magari dando anche la possibilità alle aziende di utilizzare i treni per i trasporti dei prodotti e delle merci da e verso Cosenza e Catanzaro come accadeva in passato ai tempi delle gloriose ferrovie Calabro-Lucane. Grazie.